Castrofranco e Bagni del Palazzotto, un altro appuntamento alla scoperta del progetto di riqualifica e rigenerazione del borgo di Castrolibero. Ospite di questa settimana è Luigi Filice, ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione all'Università della Calabria, ma come ama definirsi anche lui, castroliberese doc. Benvenuto Luigi. Salve a tutti, ben trovati. Nelle scorse puntate abbiamo messo in evidenza quello che è il valore storico-culturale di una rigenerazione urbana concentrata appunto su un borgo come quello di Castrolibero. Abbiamo poi posto l'attenzione sul valore turistico-sociale, quello di comunità, ma anche su un aspetto particolare che è quello appunto della tecnologia, dell'innovazione. Prendiamo un attimo anche questo elemento, come un borgo può diventare attrattivo non solo da un punto turistico, ma puntando l'attenzione anche su altri aspetti, che sono quelli che poi diciamo negli ultimi o nell'ultimo periodo sono anche molto messi in evidenza. Grazie Fabrizia, la domanda è molto articolata e anche complessa. Provo a rispondere per punti. Dal mio punto di vista esistono già ovviamente in Italia delle sperimentazioni allo riguardo, per quanto concerne l'attrattività dei borghi. Il punto di debolezza probabilmente è che finora si è puntato su aspetti specifici. Tu citavi diverse cose insieme, cioè non soltanto la parte innovazione, fammi dire, ma anche la parte cultura, la parte storica. Anche il concetto di comunità, che secondo me è estremamente importante in un borgo piccolo come il nostro, vogliamo definire il nostro appunto perché come raccontavi all'inizio faccio parte della comunità dei Castroliberesi. Probabilmente la chiave di successo potrebbe essere proprio questa, quella di coniugare insieme diverse azioni che fungano da grande attrattore per un luogo che normalmente, come avviene in tutti i borghi d'Italia, tende tipicamente a svuotarsi. Quindi bisogna invertire questo trend, probabilmente contando su più cose messe insieme. Castrolibero, anche grazie appunto al tuo interessamento come promotore, è stato anche già teatro di iniziative e eventi di questo genere, insomma, dove appunto veniva messo in risalto l'aspetto tecnologico. Quindi i borghi possono diventare anche funzionali a questo tipo di richieste? Tu stai citando ovviamente un'attività che abbiamo fatto con una grande multinazionale coinvolgendo l'università, che per una settimana ha creato, diciamo così, degli elementi fortemente innovativi all'interno del borgo di Castrolibero, vivendolo in termini diffusi, quindi con l'utilizzo di diverse strutture, dei vicoli, degli spazi, della chiesa, tutto ciò che potesse consentire a giovani e meno giovani di poter, come dire, concepire innovazioni moderne in un modo assolutamente inedito. Con questo apriamo un altro meccanismo. Ovviamente i borghi diventano realmente attrattivi nel momento in cui creano valore, e non è soltanto quello storico-culturale, mi riferisco anche al valore sociale, ma economico, che non può prescindere ovviamente da un'analisi completa. Quale tipo di struttura funziona perché, se noi pensiamo, per esempio, a un paese, diciamo così, a un borgo dedicato all'innovazione in senso stretto, ha il vantaggio di avere piccole imprese, quindi giovani start-up, per esempio, come è avvenuto in quella famosa settimana, e questo consente ovviamente di fruire di spazi che sono necessariamente piccoli, diffusi, e dove hai bisogno di infrastrutture leggere, dove tutto sommato ti basta l'alimentazione elettrica e una rete ad alta velocità, più alcuni spazi comuni che possano ovviamente favorire le relazioni, la crescita, la contaminazione, e ovviamente questi sono tutti quanti i temi che in un borgo come quello di Castrolibro riesce a vivere. Poi a questo aggiunge valore aggiunto, ovviamente aggiunge valore aggiunto bellissimo, del borgo, del borgo di per sé, quindi della vita tranquilla che consente ovviamente anche con tempi lunghi, senza lo stress della città, intesa appunto come congestione, di poter vivere esperienze appunto di questo tipo col giusto tempo. Quindi i nostri piccoli centri possono diventare incubatori di idee o di start-up? Beh, questo è un elemento assolutamente interessante, perché le start-up sono tante, perché esistono tantissime esperienze di incubazione, ma che spesso sono altre rispetto ai borghi. Certo, candidare Castrolibro a borgo, ovviamente, borgo incubatore di start-up, è una cosa che suona molto bene. Ovviamente richiede una serie di effort, i primi tra tutti appunto quello che riguarda i servizi, altro che ci siamo già detti. Quello che è importante, secondo me, è concepire un incubatore a 360 gradi, cioè la possibilità di avere giovani menti che vogliono cimentarsi in un'attività di impresa, dare sicuramente lo spazio, la wifi, il trasporto, l'azienda per la produzione del panino, per poter vivere anche, diciamo così, gli spazi nell'arco di intera giornata, ma soprattutto avere una serie di servizi avanzati e meno avanzati, che sono quelli che consentono a una persona che voglia intraprendere un'attività di impresa di poterlo fare. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che una giovane ha una bellissima idea, però non sa da dove partire, quindi il fatto di avere, ad esempio, nell'ambito di incubatore, quale potrebbe essere quello Castroliberese, il notaio, comunque, diciamo così, la sede che possa consentire un consiglio e la stipula dell'atto per la costituzione della società, il commercialista che ti consigli le migliori forme societarie, piuttosto che i vantaggi derivanti da certi tipi di assetto e ti possa garantire anche un'assistenza e una dichiarazione di redditi. Tutti questi servizi che consentano allo start-upper di fare soltanto il suo mestiere, cioè sviluppare la sua idea di impresa. Tutto quello che fondamentalmente fanno già gli incubatori, mettendo all'interno anche questi servizi, se vogliamo, più spiccioli, ma che terrorizzano solitamente lo start-upper, parlo per esperienza, perché abbiamo fatto qualche esperienza del genere, e il problema principale non era tanto quello dell'idea, era quello di dire, ma adesso da dove parto? Quindi avere un'accelerazione da questo punto di vista, un'autostrada, una corsia privilegiata all'interno di un borgo potrebbe essere estremamente interessante. Secondo me tutto questo messo insieme potrebbe consentire, forse garantire anche a quel tessuto estremamente ambito dei giovani con delle buone idee di poter anche pensare di trasferirsi in un posto dove tutte queste cose possano prendere forma. Possiamo dire che Castro Libero potrebbe diventare un case history anche da questo punto di vista, cioè attrarre menti, contrastando appunto la famosa fuga dei cervelli, cercando di sostenerli anche da questo punto di vista, sostenerli nell'aprire un'attività commerciale o di impresa in questo caso. Sì, io penso specialmente all'attività di imprese innovative, quella commerciale per me è più di servizio. Diciamo che questa cosa fa un po' il paio con quello che stiamo cercando di costruire anche all'università, dove il famoso modello, quello che io chiamo la shortcut, la scorciatoia, cioè il fatto di dire io preparo delle persone che poi vadano a lavorare presso la multinazionale di turno che di fatto prende risorse dove ci sono e in corrispondenza all'università diciamo le risorse umane sono di grande pregio rispetto a questa scelta facile tutto sommato. Altra cosa è quello di ingenerare un dubbio, un tarlo, che è quello di dire ma perché non proviamo a fare qualcosa insieme sul nostro territorio? A questo punto nascono le difficoltà che non sono tanto, ripeto, legate alle idee perché i ragazzi sono portatori sani di innovazione, come definisco, ma soprattutto quel contesto, quell'ecosistema, come si chiama a dire in questo momento, che possa garantire loro la massima facilità nel fare queste cose. Quindi la scrivania, il posto, internet, il parcheggio, la bicicletta elettrica, tutto quello che serve, ma anche i servizi di primo livello, notaio, commercialista, eccetera, che ti consiglino appunto come muoverti, oltre ai servizi un pochettino più avanzati, tipici degli incubatori, che sono quelli legati al fundraising, alla possibilità ovviamente di scalare queste idee affinché possano diventare anche esperienze di successo. Questa è una cosa possibile che si può fare. Fammi aggiungere, da orgoglioso cittadino castro di Beresse che dialoga con le amministrazioni, con quella precedente, ma anche con quella attuale che ovviamente conosco da tempo, anche in un contesto oggettivamente bello, non soltanto perché il borgo è oggettivamente bello, ma perché si può anche insistere molto su servizi anche legati al territorio che sono estremamente innovativi. Su questo sia l'amministrazione precedente, ma anche quella attuale, ovviamente hanno delle idee che scaricate a terra potrebbero consentire di avere non soltanto un borgo bello, ma anche una qualità e una quantità di servizi che possano effettivamente fare la differenza rispetto ad altri competitor che ci sono sui territori, perché ovviamente, come sai, tutti i borghi ambiscono a diventare il borgo per eccellenza. Forse qualche marcia in più ce l'abbiamo. In conclusione, allora, qual è il tuo messaggio che vorresti mandare ai castro liberesi? Il messaggio più bello, ovviamente, è dimostrare anche all'esterno l'orgoglio di essere castro liberesi. Essere comunità e quindi, proprio nel senso etimologico, provare anche a costruire insieme un percorso comune. Quindi se l'amministrazione ha questa idea che è condivisa con i cittadini che l'ha sostenuta, probabilmente poi è necessario che ciascuno ci mette il suo, perché non c'è una fase di governo, una fase di sudditanza del cittadino. Questa cosa si costruisce soltanto se ciascuno nel suo piccolo, nel lavoro che facciamo, nella vita, nel vivere il comune, nella sua accezione territoriale, ovviamente facciamo il nostro piccolo. Così facendo, ovviamente, questa comunione di intenti che poi è la base della comunità, può diventare un'esperienza significativa, anche non tanto per mostrare che siamo migliori degli altri, ma per rendere questo territorio veramente appetibile, sviluppare la potenza che abbiamo, appunto, nelle nostre carte. Grazie a te per aver messo in evidenza altri aspetti, ma soprattutto aver puntualizzato come sia importante, appunto, crederci e mostrare, insomma, anche una parte di orgoglio e di considerazione verso quelli che sono gli aspetti positivi di una buona amministrazione, insomma. Grazie, grazie Luigi. Grazie a te Fabrizio e grazie a chi ci sta ascoltando e vedendo in questo momento. E in bocca al lupo a Castrolibero.